Non ha spiegato perché ha ucciso i genitori e si è avvalso della facoltà di non rispondere dopo che ogni tentativo di narrazione degli eventi è stato interrotto da crisi di pianto. A pochi giorni dalla confessione dell'omicidio dei genitori Giuseppe Ricci e Luisa Marconi avvenuto la notte fra domenica e lunedì scorso, il 49enne Luca Ricci è stato trasferito questa mattina dal carcere di Villa Fastici al Tribunale di Pesaro per l'udienza di convalida dell'arresto davanti al GIP Giacomo Gasparini. Dietro le indicazioni del dottor Gasparini ha iniziato a raccontare un pochino quello che è successo quella sera ma si è praticamente immediatamente interrotto perché aveva ripetute crisi di pianto e disperazione per cui il giudice ha ritenuto opportuno sospendere l'udienza e a quel punto il signor Ricci non se l'è più sentita di riprendere l'interrogatorio. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha semplicemente ricostruito quello che aveva già sostenuto agli atti su quello che era successo quella sera in maniera abbastanza chiara per quanto sempre interrotto da quella difficoltà legata alle crisi di pianto però non è andata la descrizione poi degli eventi. Proprio nel momento in cui si sarebbe dovuta addentrare nel ricordo della visione dei genitori la mattina quando è entrato nella casa è scoppiato in un pianto di rotto a singhiozzi per cui non riusciva proprio più a parlare e il giudice ha avuto la delicatezza di interrompere l'interrogatorio. Ora parte una complessa strategia difensiva al cospetto dell'evidenza dell'esame autoptico che ha detto di un padre di 75 anni ucciso con 11 martellate e di una madre di 70 anni morta per asfissia dopo strangolamento con un filo elettrico. Ci teneva che la mamma non avesse sofferto, ecco l'unico elemento che ha riferito era questo la sua speranza che la mamma non avesse sofferto. Lui riferisce continuamente ed insistentemente che ha proprio dei buchi neri, dei vuoti completi di quei momenti, se non dei flash estremamente brevi ma oltre i quali non riesce ad andare. Adesso veramente anche da un punto di vista difensivo bisognerà valutare perché a me sembrano evidenti delle grosse lacune da un punto di vista proprio psicologico di questa persona, se non ovviamente psichiatrico, perché ci sono troppi vuoti, troppi buchi di memoria, troppi punti neri rispetto alla chiarezza di tutto quello che è al di là dell'episodio centrale di questa vicenda. Elementi che non escludono una prossima richiesta di perizia psichiatrica. Non lo escludiamo, credo che non sia possibile escluderla proprio in considerazione di quelle che sono le cose che sono emerse fino ad oggi. Domani, sabato 29 giugno alle ore 10, si terrà il funerale dei due coniugi Giuseppe Ricci e Luisa Marconi alla chiesa Santa Famiglia di Fano II.